Luminosa e superbamente elegante, questa villa di 2000 m2 incarna il meglio del nostro marchio in ogni stanza. Dagli ampi saloni, la zona pranzo e il soggiorno, lo studio e la cucina, fino alle camere da letto con le loro cabine armadio. Il cliente ha scelto uno stile classico italiano, rivisitando per soddisfare sensibilità e gusto ben definito. Il lavoro, dall'approvazione del progetto al suo completamento, ha richiesto 8 mesi. Durante questo periodo i nostri artigiani e designer hanno studiato come amplificare le luci in questi spazi utilizzando varie tonalità di lacca bianca e argentata. Hanno anche creato ogni motivo floreale, un tarsio a conchiglia, spirale e ricciolo, ognuno dei quali ha motivi unici ed esclusivi con attenzione ai minimi dettagli. Ogni intaglio, ogni finitura è stato realizzato a mano dai nostri artigiani.